ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono alex z e oggi siamo in un nuovo video di minecraft visto che gli altri video l'altro video di minecraft vi è piaciuto molto abbiamo deciso di fare un seguito e quindi di fare una serie come al solito siamo con boschi 96 saluta ok ciao a tutti ben ritornati nel mondo di alex perfetto cosa faremo oggi no volevo esplorare il sottomondo insieme a te ok andiamo infatti ci siamo ben forniti con di tutto e di più quindi iniziamo ad andare iniziamo l'avventura ok visto che abbiamo aperto i abbiamo creato i portali ok andiamo io ho fatto un altro c'è un botto di animali c'è di tutto e di più sì ok da qui cristiano eccomi eccomi perfetto aia ok via andiamo speriamo di non perderci ok aiuto già c'è quello no i cannot e ragazzi ok ma non muoiono qui così no sto prendendo fuoco Aspetta Facciamoci un attimo Una copertura Ma no Non serve Questi qua No Vieni 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 qua Dove sei? Qui sono Che non si spacca? Ah giusto Attenzione Aspetta Facciamoci un attimo Aia Che vuole questo? E' morto E' morto Ah Non dobbiamo mica toccare il gas Che Eh il gas La lava Il fuoco I sti maiali pigmen Sì sì infatti Attenzione che quello sta sparando I cuci Stai da lì Non può Ok Sì Un che si chiama Di sottocriglia Oh scusa No ti preoccupate Ho saputo che qua ci sono Tipo delle fortezze Sì sono delle casse che da trovare Eh infatti quindi cerchiamo di trovarne almeno una Problema che qua è pieno di questi E rompono le scatole Dove sei? Ecco Sono qua dietro Perfetto Ancora stanno Che fastidio Io Aia Ma vieni Cicciole bianche Iniziamo a trovare Quei Ma è pieno Ma è pieno È pieno di questi cosi qua Mamma mia Ma se li facciamo Allora andiamoci A manetto andiamoci Sì sì infatti Senta che c'è la lava Vieni Ok ti seguo Senta che c'è la lava eh Senta Sì La frezza Qua Incendia tutto Ok Aiaia Aiaia No Non morire È morto È morto Peno male Ma questo ci vuole attaccare I pigmen Sì Io non li ho fatto niente E tu li lasci stare E tu li lasci stare Sì infatti Sapevo Ancora quelli Mamma mia Cosa c'è qui sotto Lava Lava a morire Sì Ciao Lava E iniziamo a trovare Qualche Io andai l'altra volta Anche per vedere Un po' Cirano Cirano Quelle poste Dove entrare in quei canali Cosa sono Cosa sono Sabbie mobili Oddio Oddio Sto per morire Sto per morire Secondo me No No dai Non ti uccidere Aia Sono caduto Vengo pure sti qua Vengono Via Ce l'hai il cibo Sì Sì Ce l'ho Ce l'ho Ok Gli ho uccisi Dai Dove sei? Vieni da questa parte Vieni Qua dietro Va Eh dobbiamo andare dall'altra parte Perché Qua è un po' alto Sinceramente Aia Sto bruciando Dio Quello mi ha sfiorato Quello Sto facendo Nella lava Sto bruciando Bisogna di mangiare Non scappa Scappiamo da qua Sì Infatti Ho poca vita Aia Ma questo Sto volendo tornati da prima Eh lo so Devo mandare dall'altra parte Non da qui Vieni con me dai Qua è un po' più tranquillo Sembra Dove? Qui dove sto io Ah che sì Eccoci Allora Vediamo un po' Vediamo di trovare Pizza quant'è grande Quel blocco di lava Vediamo di trovare Eh infatti Là c'è la fortezza Aiaia Oh Minchia Stai bruciando? Sì Che fastidio Forse devo andare un po' più veloce Qua giù è un po' Basta andiamo Vieni qua sopra Vieni qua sopra Qua 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 vieni Dove sei? Ok Sì 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 Purtroppo ci sono le sabbie immobili Attenzione E c'è che bisogna mandarci Oddio è stato a morire Perfetto Perfetto Dai 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 Vieni Vieni Ok 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 Aspetta che Dove mangiare Di mangiare? Sì Io sto a posto con il cibo Ho tutta la vita Io c'ho Quattro quagli e mezzo Dove sei? Dove sei? Qui 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 Dietro di te Dietro Vedi? Ok Ok Aia Oh ma sono dei cecchini questi eh Ma che è? Sì infatti Allora Per andare lì Bisogna fare tutto il giro Vabbè si va qua Oh ma metto un po' di luce Ma è una grotta Però non serve a niente Ancora quei cosi Che fastidio Stiamo attenti eh Quello mi si è chiminato Infatti Allora Mi stai seguendo sì Perfetto Sì sì ti stai seguendo Cercando di non morire Sì infatti No come ho in questo qua Allora per andare lì È un gran problema Ma no 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 Sono caduto Dove è nella lava? No sotto Meno male Sì forse ci possiamo Ecco ti Ecco ti Ecco ti Perfetto Lì c'è la fortezza Non c'è solo un tasto No Aspetta Continua vai Perfetto Vabbè qua come punto di riferimento Abbiamo questo ponte Attenzione che sta arrivando quello Sta arrivando quello Attenzione Ok Adesso Cerchiamo di salire qua sopra Perfetto Adesso bisogna andare da qui Ok Lì c'è la cellulina che sta quasi per finire Eh io purtroppo prima l'avevo perso Io non ce l'ho proprio Però ho le torche Per come punto di riferimento Attenzione Vabbè va bene anche quelle dai Sì infatti E poi ho 42 blocchi Questi qua del Che del sottomondo Faccio una finestra Una finestra? Sì Questo buchino Ecco Ecco la fortezza Ecco la fortezza Allora dai Passiamo a entrare Se scaviamo qui No Ti è uccisi? No Cosa c'era? Ok dai Sono entrato Torce Torce a volontà Aia no Vabbè tanto non ci fa niente Giusto Se tu non l'hai toccato bene No Non l'ho toccato proprio Qui cosa c'è qui sopra? C'è niente Vediamo se Troviamo una bella cassa Prendo un Come si chiama? Le torce Eh dai un po' di torce a me Eh io ne ho 30 Ho 30 torce Sì C'è un moialino Vediamo Scava tu qua? Qui ti è la torce Che non si vede Sì Aspetta Ok Perfetto Che c'è qui? Ah là c'è la lava Non penso che è solo questa la cortezza Qua è stato qua? Vediamo Andando avanti continuo Sì infatti ho visto Perfetto Qua ci sono Queste cose qui Qua ci sono delle scale anche Perfetto Vediamo Da forse qua non c'è niente Possiamo riscendere E infatti qua è interessante Qua c'è un'altra scala Ah beh è sempre uguale Con Quella parete di sopra Qui ho trovato qualcosa Che cos'è? Ah il Tipo una fontanella di magma Attenzione che lì c'è quel mostro No 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 Via 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 Dentro dentro Vieni vieni Ti faccio Ti faccio vedere Vieni Ok Non lo puoi È morto è morto No grande Perfetto Vediamo se c'è qualcos'altro Oh sono i blades qua Attento qua Eccoli 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 Attenzione qua ci sono questi qua Attenzione no no Qua dove nascono Qui nascono Dove sei dove sei dove sei Qui sopra cosa c'è Niente Volevo provare Quanti molti ci sono È a morire Pieno Qua si entra dentro la roccia Cosa può stare Boh Volevo vedere Io sto finendo le torce Vieni con me però Perché qua è un macello Blade Vieni vieni qui Vedi qua si entra dentro la roccia Perfetto È buio eh Dai Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere Volevo vedere E qua È chiuso Qua si sale sopra Ma forse è chiuso Sì sì È chiuso È chiuso Continuiamo Tu hai Altro acciarino Per caso No Purtroppo no Io ho 16 torce Purtroppo C'ho 16 torce No tutto chiuso E penso che anche se scavi Non si trova niente Giusto? O con l'ultimo Guarda è inutile Vediamo Qua è chiuso Sì infatti è inutile Anche da là Vediamo Vediamo Dove è che si scendeva? All'in fondo Sì da lì Facciamo attenzione A quei mostri Ancora No 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 Sono morto Sei morto? Sì Eh purtroppo Io non posso scendere Perché È pieno di quelli là Dove sei? Sto andando a qualcosa Muschiamo A portare No no Qua sta a fila di questi Quindi ragazzi Direi di concludere Questo video Eh La prossima volta Con Boss Cree Continueremo a trovare Questa cassa Adesso lui È spawnato Alla Alla nostra vecchia casa Io adesso Cercherò di uscire Lo spero Ragazzi Vi ricordo che A 100 iscritti Tra pochissimo Farò il vlog Quindi se mi volete Fare una domanda Cliccate su Scrivete e chiaccio da Alex E poi mi fate la domanda Così io la risponderò nel vlog Ragazzi Per questo video è tutto E alla prossima Ciao ciao